carbonara burger ragazzi ce l'avete chiesto in tantissimi finalmente per il 6 aprile carbonara day abbiamo fatto il carbonara burger salsa con tuorlo di amatrice guanciale di amatrice carne di amatrice pane di amatrice ma quello è un crispy è un crispy il carbonara burger ma la macchina ma mangia tutti che la equipe va